Bene, adesso proseguiamo la nostra serata con un ensemble di tromboni che dovrebbe presentare il nostro insente, l'E-PAP, eccolo qui, bel applauso! Ecco qua, sediamo il microfono a l'E-PAP. Allora, in verità, sono un po' così emozionato di parlare al pubblico, non sono mica abituato. Allora, adesso sogneremo con i ragazzi dei pezzi che abbiamo provati oggi, e ho provato già una volta davanti l'oggetto, giustamente. Se si preparano sui fatti, meglio. E allora, il primo pezzo facciamo un pezzo di IDAS che è stato scritto per il Raduno Mondiale dei Fumodisti nel 1980. E poi dopo faremo altri due pezzettini, a sorpresa, che qui poi presenterà il maestro Gian Angeli. E poi ci sarà il pezzo con il coro? No? Tutto così, no? Più o meno, va bene. Allora, speriamo che i ragazzi arrivano. Vedete qua davanti il solare, meglio che dietro. speriamo che i ragazzi sono stati un bel applauso e tutti gli altri. Sono lì, non è. E ora ci sarà un bel applauso per il rafforzare. E ora ci sarà un bel applauso per il rafforzare. Grazie. 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 Grazie.